Mancano poco più di 72 ore alla prima uscita ufficiale del Foggia di Zeman. Sabato all'ore 21 sarà di scena allo stadio Pino Zaccheria, il match tra rosso-neri e azzurro stellati della Paganese. Si parte con la Coppa Italia di Serie C, con i satanelli vittoriosi per ben due volte, successi che valgono il secondo posto nell'albo duro della Coppa di Lega. Ma come giocherà il nuovo Foggia? È presto a dirlo, soprattutto se in panchina c'è uno come il maestro Boemo. L'unica certezza è l'immancabile 4-3-3, con Alastra e Dalmasso tra i pali dovrebbe essere il primo ad avere un ruolo da protagonista. Nel quarteto difensivo l'esperienza accumulata e la giovane età posseduta vede un duello sulla fascia sinistra con Nicoletti e Dienno ed uno sulla fascia destra con Garattoni e Martino che concorrono per ottenere una maglia dal primo minuto. Al centro della difesa, tranne colpi di scena alla Zeman, dovrebbero esserci loro, Di Pasquale e Markic. Peterman, mediano di esperienza, sarà coadiuvato a centrocampo da Rocca sulla sinistra ed un giovane pronto a stupire. Tanti numi in lista, da Rizzo Pinna a Ballarini, passando per Garofalo e Tuzzo. Per il reparto fuoco alle polveri, Curcio potrebbe agire sulla sinistra, Merola sulla destra e Ferrante al centro dell'attacco. Un tridente ricco di esperienza, fame e gioventù. La panchina a disposizione del profeta di Praga Scalpita, una competizione che fa bene al gruppo e che proietta i diavoli del sud verso il taglio del nastro di partenza, quando domenica 29 agosto contro il Monterosi daranno il via al campionato 2021-2022. Insomma, non c'è molto da aspettare. Accendete le Playstation, il divertimento sta per iniziare.